se mi sia il pio 3 mila e benvenuti questo nuovo video oggi voglio sponsorizzare uno youtuber gravissimo video bellissimi dovete iscrivervi aperto da poco io lo seguo si chiama vinci5000 ma vi metterò il suo profilo qui andate iscrivervi fatemi questo favore per piacere ne sarei molto contento vi lascio per il suo canale in descrizione e noi ci vediamo in prossimo video ciao